questo è il canale di MecaBrain35, benvenuto ciao un buono compleanno a me e a te e a me e a te un buono compleanno no a voi e a noi, a voi e a noi e a voi 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 e a essi e a loro e a noi auguri grazie per questi 50.000 iscritti comandoni che volano, fazzuletti che soshano, scarponi che mangiano 50.000 50.000 iscritti io mi lobo dobbiamo arrivare anche a tanti a tanti 50.000 ti sembrano troppo pochi per dire che sono tanti vai ragazzi una cifra corposissima comunque sia una bella cifra bella corposa di tante persone che ci vogliono bene anche io vi amo esattamente e siamo giunte fin qui quindi abbiamo deciso di regalarvi un giveaway no abbiamo deciso di fare quindi un bel giveaway giveaway ecco sto diventando mia sorella un bel giveaway giveaway con ben tre regali e quindi tre per tre vincitori perfettamente tre regali per tre vincitori iniziamo subito a dire le regole e alla fine di questo video faremo vedere i premi allora prima regola essere ovviamente iscritti al nostro canale con il tastino qui sotto lo potete cliccare in un momento da cellulare e da pc e noi verificheremo poi all'estrazione se siete iscritti al canale lasciare un solo commento sotto al nostro video e unicamente sotto a questo video non su facebook per partecipare al giveaway perfetto queste sono due regole semplicissime che vanno ovviamente rispettate se volete partecipare al nostro giveaway e se volete vincere però ci farebbe piacere anche se condivideste questo video con tutte le altre amiche vostre e non lo so l'estrazione avverrà tramite un sito web di cui vi lascio il nome qui e tra un mese il giveaway sarà chiuso tra un mese quindi vi scrivo sempre qui la data di inizio e la data di fine del giveaway da oggi fino a 30 giorni perfetto allora passiamo ai premi passiamo ai premi e iniziamo dal ci prendiamole le chiacchiere premio numero 3 quindi il terzo vincitore allora il terzo vincitore il terzo vincitore sarà esatto ovviamente come il primo però avrà questo faremo anche un video di estrazione quindi ok allora per prima cosa le patatine come ti chiamano? shoyuemi queste stupende patatine asiatiche questo pacchettino di caramelle caramelle gommose questo pacchettino di caramelle gommose però gusto uva no mirtillo perfetto gusto mirtillo bellissime come avete potuto vedere già le abbiamo provate alcuni di questi prodotti già le abbiamo provate e vi lasciamo il link nell'info box alla playlist dove proviamo questi prodotti vai questa è una bibita è una bevanda con caffè fragola caffè a fragola si io credo sia un preparato per fare proprio un latte alla fragola si un latte alla fragola questo qui in particolare non l'abbiamo provato ma abbiamo provato un altro che è quello lì colorato ok però quindi trovate comunque un video questa bella bottiglia guardate una bibita che è praticamente una gassosa ha il gusto con pelmo la bottiglia secondo me è fantastica fantasticata ok e la busta viva che cammina con due piedi ah comunque sono semplici questi invece sono tipo dei cerealini con all'interno crema alla vaniglia fai vedere bene perfetto crema alla vaniglia ecco qui e fuori sono penso siano integrali o al cacao questi sono i premi per il terzo vincitore andiamo avanti per il secondo vincitore ok l'ultimo vincitore vincerà il premio rainbow ho denominato il premio rainbow mentre questo sarà il premio pink perchè ovviamente è capito è rosa esattamente è tutto rosa ok quindi questa c'è candy floss esatto alla fragola io direi cotton candy però tu hai detto candy floss ed è la stessa identica cosa brava alla fragola perfetto pochi alla fragola tutto rosa al gusto fragola pochi alla fragola by glico va bene caramelle a pesca il gusto pesca sono buonissime queste le abbiamo provate anche in un video se uno mi sta meglio le leis patatine le leis leis filipponia fragola aloa esatto una bibita rosa quindi un succo di aloe a fragola questo l'ho provato saluti 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 ok eeeh una postina di viva alla fragola esattamente alla crema di fragola dentro gli stessi piccoli cerealini con all'interno crema alla fragola e per il primo vincitore sarà bellissimo stupendo regalo pochi al te matcha per iniziare questa busta la chiameremo busta te matcha bag of the winner a te matcha quindi i pochi al te verde al gusto di te verde perfetto patatine al gusto miele e queste le ho prese veramente perché penso siano wow però non le devo provare e queste dobbiamo provarle anche noi altra bustina bella cicciocca sono i noodles alla salsa bbq questi sono veramente buonissimi molto stupendermi vai avanti oreo gusto torta di compleanno esattamente guardate belli 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 i skittles per restare in tema sempre americano 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 mettiamo anche in palio questi skittles ok anche questi questi skittles li abbiamo provati quindi in un altro video quindi vai avanti c'è una bella bevanda mamma mia stupendissima bevanda bellissima arizona in quale zona non si sa non si sa quale zona con una stupenda geisha quindi arizona con onei e ovviamente verde ultimi due prodotti uno che è di beauty e cioè un bel eyeliner anti lacrime così si chiama bellissimo che abbiamo già provato si abbiamo già provato ed è quello che indosso io oggi vabbè non ci interessa è molto molto buono ne abbiamo ricevuti due quindi quindi piangete per vedere se è bello uno lo vogliamo mettere in palio per la prima vincitrice for the first winner piangete se è veramente piangete ultimo prodotto gemina bam il preparato per giacatia il preparato per pancake giacatia perché sei qua sopra giacatia originale americano ovviamente giacatia perché sei qua sopra giacatia non vale queste cose ovviamente sempre essendo in tema americano ho voluto prenderlo abbiamo voluto prenderlo e quindi questo era il premio questo è il premio per il primo vincitore questi erano i premi speriamo che vi siano piaciuti commentate con un solo commento qui in basso mi raccomando per partecipare al giveaway e mettete mi piace mettete mi piace giusto per mettere mi piace iscrivetevi al nostro canale esattamente non dimenticate di lasciare la vostra iscrizione e condividete in tanti 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 se volete condividete con i vostri amici su facebook e sugli altri social network bravo bene grazie ancora grazie ancora grazie ancora e vi ame come si e come si eh vabbè partecipate in tanti a questo giveaway ragazzi si ciao grazie mille vi amo muaa vabbè ciao ciao faccio in telecamera mmm... online ti dico ciao belle ciao